Carta, plastica e tessili, cioè quelli praticamente più colpiti. Ma gli do un elastico, mette su le penne insieme all'elastico e via. Certo! Non è così. Come genitore... La gomma la tiene in tasta. Comunque è vero che insomma sono aumentati i costi delle materie prime, anche chi per esempio sta rifacendo casa o mettendo su casa se ne è accorto. Lascia stare, non stiamo parlando. Non è più di meno, sono cose persone, è veramente casuale. Ritorniamo a parlare della benzina.